buongiorno a tutti allora faccio questo video per parlarvi di una cosa e appunto chiedervene un'altra come vedete ho messo uno sfondo di minecraft puccioso appunto perché la domanda riguarda minecraft in qualche modo o anche in tutti i modi visto che riguarda minecraft ok come al solito io mi spiego sempre perfettamente no o mio dio ho appena notato nello sfondo della foto il creeper tagliato in due che esplode bellissimo vabbè bando le trance allora come voi sapete o alcuni di voi sanno e io avevo aperto un canale di minecraft un anno fa si un anno fa con danny che appunto era il mio ex per chi non lo sapesse ci siamo lasciati ad aprile quindi da un bel po ma alla fine diciamo non è appunto il canale non lo sto più seguendo proprio perché era un canale con lui e non siamo nemmeno rimasti in buoni rapporti quindi no vorrei evitare proprio infatti se notate ho cancellato tutti i video da quel canale e appunto ogni tanto mi piacerebbe mettere qualche video di minecraft però non su quel canale appunto perché non ho più un bel rapporto con quel canale in generale quindi vorrei sapere se vi fa piacere se qualche volta carico qualche video di minecraft sul mio appunto su questo qui ma giusto qualche video di quando faccio dei mini giochi o così visto che ci gioco abbastanza spesso mi piace e mi ricordo che mi piacevano questi video non farei video molto duraturi nel senso non mi metto a fare serie come avevo cominciato con l'altro e tra parentesi se vi state chiedendo che fine fa quella serie che io facevo e diciamo che avevo registrato quando andavo appunto nel nether l'inferno e mi ero persa di brutto non ho trovato niente e mi ero totalmente persa quindi non saprei nemmeno come come continuare ecco visto che ho praticamente distrutto tutto perdendomi di brutto e vabbè quindi niente alla fine quella serie faceva abbastanza schifo non ho fatto mai niente di che non sono riuscito a fare niente di che mi sono persa quindi niente e niente appunto fatemi sapere se può farvi piacere giusto ogni tanto non ne caricherei spesso visto che il canale in pratica non parla per niente di quello e quindi insomma ditemi cosa ne pensate in un commento e valuterò come fare appunto niente io vi saluto ciao